Ero sicuro che cercando su YouTube e Killer Paradox recensione non sarebbe uscito niente, mentre in Netflix, sì, YouTube America è stato recensito da qualcuno, i più, diciamo, quelli più sul pezzo, un po' come me, virgolette, in America fanno uscire un po' su tutti i prodotti Netflix e quindi sono il primo. Sono arrivato in ritardo, avrei voluto farlo uscire molto prima, però ho avuto un sacco di roba da fare, tanti video che ho montato e che ho messo sul canale, quindi già per questo iscrivetevi che vi parlo di un sacco di contenuti e quindi sono contentissimo perché vi parlo di questa serie che avevo scoperto grazie alle utilissime arca uscite, cosa sono, ogni dieci giorni vi dico che cosa esce al cinema e sulle piattaforme. E c'era questo titolo che mi aveva interessato per l'Incipit, abbastanza bizzarro, che mi ha colpito e guardandola posso dire che per metà è pressoché perfetta, l'altra metà c'è un piccolo problemino, ma è una grande serie che vi consiglio di vedere su Netflix. Ora per andare avanti vi invito a iscrivervi a supportarmi come detto per i contenuti che vi porto, che sono tantissimi, almeno uno al giorno e abbonatevi col tasso qua sotto se volete che faccia di più, vi porti più cose. Oggi, questo sabato, vado al Nerd Show di Bologna, questo weekend, sabato e domenica, quindi ci becchiamo là, faccio anche una storia magari oggi prima di andare su, faccio uno short, comunque ci becchiamo là se vi va e quindi puntiamo al 1215 iscritti, iscrizione, abbonamento, mettete like, insomma ho aperto anche i social, sono un po' poveri, TikTok e Instagram, ma ora cercherò di, negli ultimi, nei prossimi giorni cercherò di metterci più roba possibile, quindi incominciamo subito senza perderci in chiacchiere e parliamo di queste killer paradox, no spoiler, e poi piccola parte spoiler dove tracciamo un po' quelli che sono il difetto e i punti di forza perché c'è da dire. Innanzitutto, consigliatissima, super consigliata, ok? Nonostante gli otto episodi, che questo è il grande difetto, lo posso anticipare, sarebbe dovuto durare sei episodi, da 45-50 minuti, ne dura otto. E infatti è quello che mi ha spinto un po' più in là, ma è fantastica, una serie straordinaria sotto c'è il punto di vista, coraggiosissima, audace come ho messo nella copertina e che colpisce per la creatività. Sì, se uno poi ci va a vedere ci sono riferimenti a altre serie e altri film, bellissimi, quindi hanno copiato dai migliori, se vogliamo dire così, il mischione, diciamo, il mix, perché il mischione è brutto e negativo, il mix che si fa alla sintesi è veramente top. Non solo per la storia, ma anche per la regia, per gli attori che sono bravissimi, anche il lato tecnico si sforza di creare qualcosa di originale, di nuovo. Ma andiamo alla sintesi di questa serie. Di che parla? C'è questo ragazzo giovane in Corea del Sud, mi pare, che non sa bene cosa fare, è tornato dal militare, e il suo futuro è abbastanza nebuloso, è all'università, lavora in questo combinì, in questo supermarket piccolino che ci sono in Giappone, Corea, eccetera. Qua per sbaglio uccide una persona che poi scoprirà essere un serial killer e questo innesca a lui un meccanismo che lo renderà lui stesso un serial killer. Ovviamente a Braccarlo ci sarà un poliziotto, come piace a me, quasi Arboil, al di là del bene e del male, se vogliamo, sfaccettato, in un contesto della polizia e di chi, insomma, governa, corrotto. Quindi proprio un noir, se vogliamo dire, ma adattato ai tempi nostri. E ci sono dei momenti onirici, simbolici, di altissimo livello, con dei personaggi che sono al centro della storia. Fiondatevi, perché è sicuramente una delle migliori serie del 2024, già ve lo dico. Quello che più mi ha colpito di questa storia sono i riferimenti, prima di tutto, che posso citare, ovvero la serie Dexter, Memories of Murder, di Bongiuno per certi aspetti registici e della comicità, soprattutto. Più che altro non la regia, sì, alcune cose sì, ma nel contesto e nel mettere vicini la comicità e la tragedia, con questi momenti esilaranti, davvero, ma che fanno riflettere. E poi ci sono tanti riferimenti, poi ha i noir, altri riferimenti che non voglio dire. È un noto simbolo dei cinecomic, fra i più famosi, non dico altro. Perché la storia è intrigante, perché, come dire, parte da un contesto piccolo e si allarga piano piano, ma tu non te ne rendi conto, cioè, vieni sorpreso, non è quel colpo di scena che dici alla Shyamalan, quelli brutti e fasi, vabbè, no, è un colpo di scena motivato, che tu dici ah, ok, e si allarga, si allarga, si allarga, ecco, a un certo punto si allarga anche fin troppo, nel senso che i primi quattro episodi sono su questo protagonista, e certo, anche altri personaggi, ci sia chiaro, poi si allarga ancora ed è interessantissimo, c'è un focus su un certo personaggio, che però scompare, fra virgolette, dura molto poco, e poi questa bolla si apre troppo e scoppia, fra virgolette, anche se sul finale si riprende, quindi è un problema di sintesi, essenzialmente qui abbiamo troppa durata. Andiamo sugli altri aspetti super positivi, gli attori sono bravissimi, ora è inutile che vi dica i nomi perché non ha senso, diciamo che c'è il serial killer, che è il nostro protagonista, il poliziotto, che aiuta il serial killer, altri personaggi, la famiglia del serial killer, del ragazzo, eccetera, eccetera, quindi sono 7, 8, 9, 10 personaggi, anche i poliziotti vicini all'investigatore su cui abbiamo il focus, per esempio il collega del poliziotto, tutti bravissimi, c'è tanta intensità nei loro occhi, nella loro recitazione, si gioca tanto sui silenzi, sul sentire la scena, più di altre serie che ho visto, e poi c'è una stizzata d'occhio a Tarantino e a John Wick, ecco, e andiamo sulla seconda parte, no, prima vi dico il pregio della regia, mi è piaciuto molto perché alterna momenti esistenziali, se vogliamo, scene espressioniste, alternate però a una grande varietà di colori in contesti urbani, ma abbiamo i momenti onirici, che fanno un largo uso di slow motion, ma fatti bene, quello slow motion che tu comprendi il punto di vista del protagonista, del personaggio, perché sei nella sua mente, perché la storia è scritta bene, ma fanno anche un po' ridere, ridere quella violenza un po' tarantiniana alla John Wick che è sopra le righe, che però qui è sorretta da una storia vera, storia intensa, con temi sulla giustizia, sulla vendetta, sul cercare se stessi, eccetera, eccetera. Quindi funziona tantissimo. Andiamo sul difetto, uno spoiler, poi vado in spoiler, la seconda parte l'ho già anticipato, però secondo me il discorso si apre troppo e si tende a rendere il protagonista un anti-eroe, quando sarebbe stato bellissimo che fosse davvero una serie sulla follia di questo ragazzo che vive in un contesto folle al pari di lui e quindi scavare ancora più in profondità che già si fa tantissimo. Nella seconda parte si decide di renderlo l'anti-eroe per metterci un vero villain, fra virgolette. Non mi è piaciuta questa scelta, onestamente non mi ha convinto e ha dimostrato la mancanza di coraggio, ovvero c'è stato il coraggio fino all'ottanta per cento. L'ultimo venti, quello più importante, forse se lo sono un po' persi, ma sul finale si recupera tantissimo con un finale, diciamo, semi-aperto, che può spingere a una seconda stagione come non può farlo. Quindi io qua chiudo la parte, uno spoiler, super consigliata, recuperatelo oggi, guardate almeno il pilota, se non vi piacerà, niente, sarà come dire, avete fatto un'esperienza, ma vi piacerà sicuramente. Io vado in spoiler fra 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ho amato la follia per i miei quattro episodi perché sono scritti benissimo ed è una sorta via di mezzo, farà delitto e castigo di Dostoevsky, Dexter e riesce benissimo, cioè l'escalation con cui questo ragazzo, che è bravissimo, statore, come si chiama, fa proprio difficilissimo, che si deve lavorare sulle microespressioni. Choi Wok-sik, che è Li Tang, il protagonista, quindi che lavora al Combinì, al Market, ma dovrebbe andare all'università, ok, lui è stato bravissimo con le microespressioni perché si deve, come dire, manifestare con poco un'emozione forte. Poi c'è la scena surreale dove lui si immagina le cose, rivede le vittime che ha ucciso, mi piace molto, cosa che si perde nella seconda parte per favorire l'altro personaggio che è il cattivone, il serial killer senza morale, poi ci vado sulla seconda parte. Ho amato quella scena dove c'è il crescendo di lui che capisce che ha bisogno di uccidere, proprio come Dexter, in realtà, e anche lui si dà un codice morale, se vogliamo, cioè uccide gli stronzi. Mi piace che abbia questo superpotere che viene anche preso un po' in giro, nel senso che gli parte qui il brividino sulla schiena, sul collo, e lui percepisce i cattivi. Questo è anche divertente, gioca tanto con questo personaggio, per esempio la scena con la finta cieca, quando viene ricattata è straordinaria, o anche il primo omicidio. Sono straordinari però messi in scena pure, c'è tensione, c'è il colpo di scena del colpo di scena, tu non lo sai. Poi arriva quel fantastico momento dove giustamente la narrazione si apre, quindi c'è Robin, c'è Robin, c'è questo tale che lo aiuta e lo salva quando sta per essere preso dalla polizia. Mi piace questa collaborazione con questo Robin che vorrebbe essere un supereroe ma non lo è, ed è bello il finale dove lui si prende fra virgolette carico come complice degli omicidi salvando gli Tang. Mi piace perché è un passaggio complesso, bello, e qua si inserisce il detective che è straordinario, perché è proprio quello fuori dal coro che fa la cosa giusta nei modi sbagliati. Bravissimo quell'attore lì, proprio pazzesco, vediamo se lo trovo. Eh no, qua fra i nomi le foto non sono abbastanza chiare, non riesco. Comunque il poliziotto è davvero fantastico. Avrei tolto la parte con il padre per esempio, tutta la parte finale dove c'è il supervillain. Sì, mi fa piacere che ci sia, c'è anche in Dexter questa, diciamo, in un certo senso, questa dinamica viene riproposta, ci sta, ma è troppo tempo per quel personaggio che si deve legare per forza con il poliziotto a lungo il brodo. Quando fino al quarto, quinto episodio andava molto bene la narrazione, molto fluida, nonostante i 50 minuti, è sempre lì attento a quello che succedeva. Dopo c'è proprio, andiamo verso questa parte della storia che non era prevista inizialmente, perché dobbiamo fare otto episodi e non sei. Mi è dato fastidio, anche perché se tu fai un focus sulla ragazza che poi viene uccisa, che lavora a quel grande supermercato, no? Con Li Tang, il ragazzo serial killer, no? Vi ricordate che viene uccisa la ragazza di videoporno, per interni, che si era rifatta per non farsi riconoscere. Bellissima questa dinamica, secondo me, anche del revenge porn, mi è piaciuto molto come è stata inserita, io pensavo che la ragazza fosse fondamentale, e invece no. Essenzialmente è di passaggio, per farti vedere che le persone con cui Robin ha lavorato negli anni sono più di una. Ho capito, però si poteva essere più sintetici. Tutta la storia del cattivone serial killer, come si chiama? Vediamo se lo trovo. No, ragazzi non lo trovo, vabbè. Cioè lui come personaggio è fantastico, ma inserito in un contesto strano è come dire, mettere John Wick nella serie di Dexter. Sono belle entrambi, se vogliamo, ma Dexter è più filosofico, è più intimista, è il Dark Passenger, no? Dexter, per chi l'ha visto. John Wick è diverso, quindi mischiarle, un po' come faccio questo esempio, perché ha visto Sanremo, la canzone di Rose Villain, Click Boom, no? A me piace sia la parte ballad, sia la parte quella più tunes, no? Quella pop, ok? Ma insieme non c'entrano un cazzo, cioè è proprio quello stesso. Invece così sono eterogenei, non c'entrano niente l'uno con l'altro e mi dispiace, anche si è apprezzato molte cose, per esempio gli ultimi momenti dell'ultimo episodio, quando c'è quella sorta di triello fra il poliziotto, l'Itang, il giovane serial killer e il villain serial killer, ecco. E quindi è bello, c'è anche Robin, vabbè, di sfondo, è bello, i dialoghi e tutto, l'atmosfera, si gioca tanto sulle scene action, non solo con gli slow motion, bello, tutto bello, ma troppo lungo, troppo lungo, bisognava semplificare la storia e stare più sull'Itang. Faccio questa proposta, ovvero fare più di cinque episodi come sono stati fatti, poi in due episodi al massimo, uno e mezzo, uno, mettere il serial killer che compare alla fine senza il legame nel passato con il poliziotto. Secondo me l'avrei asciugato un po' il poliziotto con il padre, che poi non era il suo vero padre, cazzo se ne frega, c'è un focus sul cane addirittura della della finta cieca, sì è carina come idea, no? Però era necessario? Non era necessario. Quindi in chiusura, come vi ho detto una grande serie, che sarebbe stata forse la migliore dell'anno se fosse stata più sintetica, così uno tra le migliori cinque non sarà sicuramente al primo posto né al secondo. Io vi ringrazio per avermi seguito, avete ricordato questa serie? Spero proprio di sì. Fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto. Iscrivetevi, abbonatevi, like, commentiamo, seguitemi per i miei video che escono ogni giorno. Alla prossima, ciao ragazzi!